Lunedì 2 ottobre 1944. Alla notte sono arrivate parecchie granate dal fronte, avariando parecchie case. Apparecchi hanno bombardato portasanti, rendendo inabitabili una ventina di case. Un soldato tedesco è stato ferito. Il luogo non aveva nessuna importanza bellica. Il nuovo colpo su Cesena ci fa guardare le rovine col cuore in gola e il pianto sul ciglio. Si pensa a chi, rimasto senza casa e senza niente, dovrà cercarsi una nuova dimora e non la troverà e avrà fame e difficilmente potrà sfamarsi. Ed è una piaga generale ormai e non desta più la compassione dei tempi di pace perché ci siamo incalliti alle scene d'orrore e distrazio così frequenti. In questi momenti mi viene da pensare a Dio che vede e certamente tiene conto delle nostre sofferenze che causano nella gente, tante attenuanti perché non educati cristianamente. Il cannone si ode sempre e viene controbattuto dalle artiglierie tedesche che, essendo vicine, fanno tremare la nostra povera casa che, così vecchia, poveretta, non so se potrà reggere alle tante prove a cui la fanno sottostare.